Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alberto Udenino e oggi tratterò il tema delle grandi sfide che riguarda la salute. Due parole sul mio percorso, io sono un ingegnere meccanico, ho passato parte della mia carriera universitaria occupandomi di automobile e poi da 20 anni ormai mi occupo di bioingegneria nello specifico, poi dopo vedremo più in particolare i vari campi della bioingegneria, ma io mi occupo più della parte di biomeccanica. Tema salute e grandi sfide, ma ringrazio intanto qui pubblicamente il vice rettore della didattica e il collega Juan Carlos che mi spinge a parlare di temi dei quali non sono a Svezzo e spero di non annoiarvi, ma in ogni caso sì, tra le grandi sfide trattando di salute direi che la sfida più grossa è quella della morte, che normalmente è tema che noi qui al Politecnico trattando di ingegneria non trattiamo, ma io inizierò questa lezione proprio parlando della morte, ma perché? Ma perché chiaramente parlare di salute vuol dire parlare di vita, vuol dire di parlare di vita che è stata vissuta bene, ma in ogni caso noi sappiamo, o vedremo magari no, noi sappiamo che questa vita finisce, no? Sappiamo anche che siamo diciamo in continuo aumento dell'aspettativa di vita, però insomma non abbiamo idea, non abbiamo idea bene dove si possa arrivare. Sappiamo ad esempio che questa signora che vediamo qua ha vissuto fino all'età di 121 anni, si ritiene che sia l'essere vivente che abbia vissuto di più, qui non appare felicissima in questa foto, ma ritorneremo su questo tema, qualcuno ha cercato di interessarsi del perché, quali sono i motivi per i quali abbia vissuto così tanto, mangiava cioccolato tutti i giorni, beveva a porto, pensavano che fosse questa. In ogni caso il problema qui è quanto vivremo in futuro, cioè continueremo a vivere sempre di più e fino a quando? Questa è la prima domanda. Allora, alcuni studi che vedete lì, diciamo nella slide, prevedono che una condizione ideale sia quella dei 150 anni. In ogni caso vedete dal grafico di sotto che noi siamo in continuo aumento, non ci siamo al momento, siamo molto distanti. Diciamo l'aspettativa di vita media subrappondantemente di 80 anni nelle regioni più sviluppate del mondo, è un po' più bassa in quelle meno sviluppate, però vedete che insomma un primo messaggio positivo è che anche nelle regioni meno sviluppate sostanzialmente l'aspettativa di vita cresce e vedremo che un obiettivo sostenibile è quello di ridurre questo gap che comunque anche lì vedete dal grafico si sta riducendo. È chiaro che poi se però andate a leggere la letteratura scientifica trovate un po' di tutto insomma e c'è chi sostiene come questo signore, Ray, che noi potremmo diventare immortali. Dice che sostanzialmente il nostro genoma umano è come un software datato che ha dei bacchi all'interno e che diciamo nella sostanza si tratti di un problema ingegneristico risolubile, quello di togliere i bacchi e quindi che in tempi relativamente brevi si possa addirittura vivere all'infinito. Questo è chiaro che è una visione che tutto da dimostrare che sia realistica, ma in ogni caso la domanda, detto questo, allora la domanda successiva che viene da farci è ma noi ci vogliamo vivere all'infinito? Questa è la domanda che nasce perché diciamo poi io qui vi riporto, non solo letteratura scientifica, però vedete che parlerò anche di qualche film che spesso come visioni comprendono ed anticipano insomma un po' le innovazioni tecniche, ma diciamo in prima battuta sembrerebbe di dire di no, qui vi faccio due esempi, ricordate forse il film Highlander dove una serie di immortali lottano per tempi lunghissimi, per centinaia di anni per vincere un premio, l'ultimo che rimane in vita vincerà questo premio, ma questo premio in realtà è la mortalità, è chiaro che questo è come se volete un elogio anche della natura umana che di per sé è mortale, tuttavia diciamo appare un po' rispetto a quello che dicevamo prima un controsenso che un immortale diciamo acquisti come premio la mortalità, è chiaro che insieme alla mortalità nel film forse ricorderete c'è la possibilità di avere dei figli e quindi sostanzialmente di vivere una vita piena e quindi sicuramente quello che è vero è che vivere senza vivere una vita piena probabilmente molto senso non ce l'ha. Qui ho riportato anche un'immagine dei Queen insomma che con la famosa diciamo canzone che è proprio parte della colonna sonora del film Highlander. Ma sempre diciamo guardando ai film c'è anche un altro film che potrebbe anche essere interessante che è l'uomo bicentenario e nell'uomo bicentenario addirittura diciamo questo è di nuovo molto visionario però addirittura qui si parte non da un essere umano ma da un robot che per definizione sostanzialmente può essere immortale e invece lotta tutta la vita per diventare mortale e tra l'altro quindi prima riesce a diciamo farsi se volete facendo riferimento a quello che dicevamo prima inserire delle parti diciamo bacate rispetto al software di prima nel senso che diciamo automaticamente non riescono a si degenerano sostanzialmente ecco automaticamente si degenerano quindi diciamo anche questo è un elogio se volete all'umanità nel senso che il robot non si rendeva in grado non si sentiva in grado di vivere una vita piena di amare di eccetera se non se non fosse diventato mortale parallelamente c'è una lotta chiaramente per essere riconosciuto come tale e qui vedete insomma che quindi si sposa a un certo punto e diciamo muore insieme alla sua sposa e la sua sposa insomma termina anche lei la sua vita dicendo addirittura al robot see you soon cioè ci vediamo presto e qui chiaramente di nuovo ci troviamo in difficoltà perché almeno personalmente perché chiaramente si aprono altri scenari con questo see you soon perché insomma qui vedete che nel film sostanza si parla molto anche di vivere o morire con dignità e allora se colleghiamo un po' le cose che abbiamo detto fino adesso c'è il fatto di poter estendere la nostra vita a piacimento se volete sempre che sia vero e il fatto di vivere in modo pieno quindi di voler vivere e di essere sostanzialmente tornando al tema di oggi in salute che riprenderemo potrebbe venire anche magari l'idea di decidere quando morire è chiaro cioè magari se colleghiamo le due cose non riusciremo a estendere all'infinito la vita però estenderla oltre a quel punto rispetto al quale ci interessa vivere e allora potremmo decidere di morire a un certo punto di programmare la nostra morte e di morire con dignità e qui chiaro io poi vi presento nel seguito più delle domande su queste temiche non ovviamente delle risposte ma questo sapete che è un tema enormemente controverso e in particolare qui tra il Siu Sun di prima e questo tema qua intervengono chiaramente delle tematiche di tipo religioso e proprio di questi giorni che il Papa Francesco è preoccupato del tema dell'eutanasia che nella sostanzialmente è non proprio la stessa cosa di quel che dicevo prima ma si tratta sostanzialmente di decidere in qualche modo di morire il Papa lo vede come un suicidio assistito è precisa che è la vita che è un diritto ma non la morte la morte non è un diritto la morte va come umani sicuramente accettata ma non si può somministrare e qui ho riportato anche il Cardinale Bassetti del Presidente della CEI che dice un'altra cosa importante che riguarda il scegliere di morire proprio perché andiamo a inserirci in quella zona di sofferenza in quella zona di non più interesse a vivere è precisa che chi soffre deve essere aiutato dagli altri a riscoprire le ragioni di vita piuttosto che essere aiutato a morire qui chiaramente mi fermo perché qui io non ho risposte ognuno di noi è in grado di ragionare su questi temi che ovviamente sono temi sicuramente centrali per la vita di tutti noi direi che questa non perché sono qui o qui oggi ma direi che tra tutte le sfide questa è la nostra sfida più grossa chiaramente la più grossa di tutte bene detto questo insomma che qui mi fermo andiamo a vedere invece quindi è comunque acclarato che le nostre aspettative di vita crescono e sono in continua crescita cioè la derivata è tutt'alto che nulla quindi noi siamo ingegneri, architetti la derivata è positiva quindi l'aspettativa di vita tende a crescere ecco qui prima di parlare poi tra un poco di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che ci indicano le Nazioni Unite cominciamo a vedere una cosa che in realtà però questa aspettativa di vita non è uguale dappertutto e si è alzata come vi dicevo lo vedremo anche una slide successiva dappertutto sicuramente ma non è uguale dappertutto in particolare le nazioni più sviluppate proprio perché hanno verosimilmente non soltanto delle risorse molto più importanti ma anche dei sistemi sanitari molto più efficienti oltre che altre condizioni di vita che riguardano anche la sicurezza e quindi diciamo altri temi che non sono strettamente inerenti alla salute diciamo fanno sì che ci sia una grossa differenza voi vedete nel diagramma di sinistra un po' una serie di nazioni e anche una serie di continenti riportati come valori vedi vedete anche il valore medio nel mondo che sta circa al centro di quella linea vedete anche perché è un diagramma perché lo sapete probabilmente l'avete sentito dire c'è differenza anche di genere in questo caso a favore del genere femminile perché il genere femminile è una durata media di vita maggiore di quella del genere maschile però quello che salta all'occhio poi il media del mondo guarda caso sta in mezzo ma quello che salta all'occhio più di tutti è che a un'estremità abbiamo Monaco che tutti conosciamo e all'altra guarda caso abbiamo l'Afghanistan oggi no? che quindi oltre a questioni di povertà ecco quando vi parlavo di condizioni di sicurezza ci sono anche altre questioni quindi questa è sicuramente al di là della sfida della morte che abbiamo detto prima è una sfida invece della vita diciamo che è quella di fare in modo che tutti gli esseri umani sulla Terra possano permettersi un'aspettativa di vita sostanzialmente simile nel diagramma di destra vedete coi colori quello che dicevo prima e in particolare il colore più scuro riguarda un'aspettativa di vita superiore agli 82 diciamo anni e mezzo questi sono dati del 2019 quindi vecchi di due anni e via via i colori si schiariscono per diventare rossi andiamo al minimo che sono valori che sono di nuovo scuri marroncini che sono valori inferiori ai 55 anni quindi c'è una bella forchetta e vedete che le nazioni che permettono che senza volerlo volendolo garantiscono ai propri cittadini aspettative di vita maggiori sono situate in Europa nel nord Europa in Canada e in Australia ok? ecco quindi questa è un'altra sfida importante cioè questa è una cosa che chiaramente non va bene ecco rilassando un po' questo concetto che abbiamo detto a poco anzi non va bene però diciamo non è che stiamo andando malissimo quindi si può sempre andare meglio ma non è che stiamo andando malissimo nel senso che in questa slide voi vedete invece dei dati i primi sono un attimino come dire discussi nel senso che non abbiamo questi dati così certi però abbiamo tre mappe sostanzialmente una simile a quella che abbiamo appena visto che è quella più grossa nella parte destra della slide che tratta dell'aspettativa di vita del 2015 quindi quattro anni prima di quella che abbiamo poc'anzi visto poi ne abbiamo una nel 1950 quindi 65 anni fa e una fino al 1800 quindi fino al 1800 vedete che il mondo è tutto colorato uguale ecco lì probabilmente se ci mettessimo magari con una scala dei colori con una granometria diversa magari vedremo delle differenze però la cosa interessante è che fino al 1800 quindi un tempo molto lungo per lo sviluppo dell'uomo l'aspettativa di vita era sostanzialmente uguale in tutto il mondo molto più bassa di quello di oggi si stima intorno ai 44 anni mentre via via che diciamo il tempo scorre arriviamo i giorni nostri tutti migliorano quindi questa è la cosa positiva che rilassa quel che dicevo prima tutti migliorano qualcuno migliora più degli altri e vedete che torniamo all'Europa il Canada e l'Australia e quindi questo è un qualcosa rispetto al quale dobbiamo lavorare tuttavia è diciamo positivo il fatto che anche le nazioni oggi meno sviluppate comunque abbiano avuto un incremento importante di aspettativa di vita quindi ricordiamoci anche di questo ecco altro punto adesso quindi che in parte abbiamo già introdotto parlando di altre questioni tipo l'eutanasia e le religioni eccetera ma ci interessa soltanto già in parte abbiamo risposto sembra di no no ma ci interessa soltanto aumentare la durata della nostra vita o ci interessa vivere bene beh direi che la risposta in ogni caso al di là di convinzioni religiose e ovvia ci interessa vivere bene ci interessa vivere bene e quindi potremmo introdurre un altro parametro poi noi insomma ingegneri architetti ci interessa misurare le cose quindi un altro parametro che invece rispetto all'aspettativa di vita to cure che è quella che abbiamo detto prima che supera gli 80 anni oramai nelle nazioni più sviluppate potremmo parlare di aspettativa di vita in salute che ovviamente è più piccola difficile da definire diciamo che normalmente viene chiamata aspettativa di vita disability free cioè priva di disabilità in modo che non abbiamo delle diciamo problemi particolari a continuare a vivere nel modo che nel quale abbiamo sempre vissuto prima e qui di nuovo torna quello che dicevo prima cioè che c'è una differenza tra gli uomini e le donne nel senso che il genere femminile vive un po' di più però salta agli occhi l'enorme differenza di aspettativa di vita media facendo riferimento all'aspettativa di vita in salute vedete che c'è una bella differenza perché scendiamo di almeno una quindicina di anni rispetto a quella precedente quindi questo è un altro tema importante quanto ci interessa vivere e quanto vogliamo vivere in salute ci piacerebbe che le due cose ovviamente coincidessero al momento non è così quindi anche questo è un lavoro rispetto al quale ci potremmo interessare nascono recentemente dei termini anzi io stesso devo dirvi che questo termine fino a qualche mese fa non l'avevo incontrato vedete che qui è un termine silver economy cioè l'economia silver se volete dei senior no? e cioè di che cosa parliamo? allora abbiamo visto che l'aspettativa di vita cresce entrambe quella assoluta e quella in salute e quindi è logico aspettarsi che il numero di umani che hanno una vita superiore ai 65 che si trovano nel loro stadio di vita oltre i 65 anni aumenti e qui vedete un diagramma che riporta diciamo in previsione partendo dal 1960 andando a prevedere al 2100 diciamo il numero globale di persone che superano i 65 anni vedete che c'è una crescita che non è manco lineare una crescita molto importante ecco associare però questo concetto all'economia potrebbe sembrare un po' curioso anzi vedremo tra un po' che spesso lo si associa al contrario nel senso di dire ma qui più la popolazione invecchia e più avremo problemi economici qui invece qualcuno sostiene il contrario cioè sostiene che sostanzialmente esista un'economia una silver economy cioè esista una possibilità di incremento di pil sostanzialmente di prodotto interno lordo legato a questo fatto e quindi un beneficio economico nel caso che ovviamente queste persone più anziane oltre a vivere più lungo siano più in salute ok e per esempio c'è quello studio che vi riporto lì che stima addirittura in 38 questo negli Stati Uniti ma in 38 miliardi per anno in 38 miliardi di aumento del prodotto interno lordo per ogni anno di aspettativa di vita in salute aumentato rispetto al precedente quindi diciamo vede un risvolto economico ma questo bisognerebbe capire il motivo i motivi sono molti motivi sono molti ovviamente se una persona al di là del fatto che addirittura potremmo direi la cosa più ovvia forse lavorare di più cioè potremmo lavorare di più e quindi diciamo produrre anche di più ma a parte questo concetto c'è proprio il concetto che normalmente chi si trova in questa soprattutto nelle parti del mondo più sviluppate chi si trova in questa fascia di età normalmente ha più denaro ha più volontà di spendere gira di più per il mondo può permettersi una serie di beni che prima non si permetteva non deve fare dei debiti quindi c'è anche una ricaduta positiva dovuta alla diciamo rinvestimento dei capitali che sono stati accumulati negli anni precedenti quindi nel vivere di più e bene in salute il messaggio che noi abbiamo qua è quello di dire che avremo addirittura dei vantaggi economici se lavoreremo bene ecco cos'è la silver economy ecco qui velocemente adesso io scorro visto che diciamo è come voi sapete proprio intrinseco nelle grandi sfide anche il concetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile suggeriti dalle Nazioni Unite io in particolare mi riferisco al numero 3 e quindi così vediamo se quello che ci indica ma ovviamente la risposta è sì questo che ci indica questi obiettivi questo obiettivo di sviluppo sostenibile è in effetti congruente con quel che dicevamo prima allora intanto l'obiettivo sostenibile numero 3 che è quello della salute vedete che dice questo che vogliamo promuovere insomma il benessere sostanzialmente per tutti a tutte le età quindi mettiamo insieme quei due concetti che abbiamo visto finora cioè vivere in salute se volete all age ci riferiamo se volete più anche alla parte diciamo della popolazione più anziana che deve vivere in salute ma l'altro tema importante per tutti cioè dovremmo lavorare chiaramente su queste disparità tra le nazioni più sviluppate quelle meno in modo che tutti possano permettersi appunto queste vite in salute e in benessere a tutte le età ecco adesso io direi che l'obiettivo è molto chiaro non ha bisogno di ulteriori commenti però potremmo così vedere quelli che sono i target per ogni diciamo obiettivo di sviluppo sostenibile ci sono una serie di sotto obiettivi e una serie anche di indicatori adesso non li leggerò tutti chiaramente però ne leggiamo qualcuno in modo da capire di che cosa stiamo parlando e capire anche quanti sono i problemi perché ovviamente gli obiettivi sono legati ai problemi allora il riferimento a parte qualcuno è il 2030 al momento e vedete che il target 3.1 si occupa della mortalità delle mamme sostanzialmente che è molto elevata nei paesi meno sviluppati ancora e ci sono anche l'obiettivo meno di 70 per 10.000 nati vivi quindi questo è un tema importante un tema altrettanto importante il secondo direi addirittura di più dal punto di vista numerico nel senso che il secondo tema che riguarda la morte dei neonati sostanzialmente è una percentuale importante delle morti che spesso anche andando a trattare le medie si potrebbe che abbiamo visto prima di aspettative di vita si potrebbe addirittura ragionare togliendo questo tipo di mancanza se volete di popolazione all'inizio che non iniziano neanche questi poveri neonati e quindi anche qui diciamo l'obiettivo è di ridurre a meno di 25 per mille nati vivi e si introduce oltre ai neonati anche tutti i bambini fino all'età di 5 anni quindi due temi importanti perché esiste una mortalità importante delle mamme e dei bambini che quindi non iniziano neanche il percorso umano proseguiamo invece il target 3.3 si occupa delle epidemie di vedete lì di AIDS di tubercolosi di malaria di malattie tropicali rare le patite le malattie legate ad acque contaminate e sostanzialmente di tutte le malattie trasmissibili anche qui abbiamo chiaramente dei numeri nelle parti del mondo sono molto diverse non entro come vi dicevo nel dettaglio li leggo velocemente il target 3.4 mira ridurre di un terzo la immortalità prematura invece legate a differenza delle precedenti che erano malattie trasmissibili a quelle non trasmissibili e in particolare si parla anche di salute mentale e di benessere proseguiamo velocemente il 3.5 tratta dell'abuso di sostanze includendo le droghe sostanzialmente e l'alcol che sapete che anche questo è molto disuniforme nel mondo anche se anche noi come nazioni sviluppate qua ci difendiamo bene e poi ci sono addirittura vedete nel target 3.6 si occupa invece del rate di morte legata ai incidenti stradali per esempio 3.7 proseguiamo assicurare l'accesso universale quindi a tutti a sistemi sanitari che si occupano di temi sessuali e riproduttivi introducendo anche diciamo l'assistenza sociale per la pianificazione della famiglia le informazioni le educazioni e nella sostanza di integrare vedete anche la salute riproduttiva se volete nell'insieme delle strategie nazionali nei programmi ecco molto importante il target 3.8 è chiaramente assicurare o raggiungere la totale copertura universale dei sistemi sanitari che riguardano la salute che tra l'altro tenendo in conto non soltanto quelli che sono ovviamente le facilities che i nostri sistemi sanitari ci consentono ma anche una protezione dai rischi finanziari legati ad operazioni di questo tipo che chiaramente laddove la copertura è totale negli stati dove è totale tipo il nostro insomma è meno importante in altri stati diventa cruciale diventa cruciale poter diventa ovviamente terribile non potersi curare per mancanza ovviamente di sufficienti risorse finanziarie arriviamo al fondo 3.9 si riguarda riguarda gli inquinanti sostanzialmente quindi ridurre anche lì vedete che per ognuno c'è l'indicatore preciso il numero da raggiungere non sono solo chiacchiere ma ci sono dei numeri e poi potremo vedere se li abbiamo raggiunti o no quindi numero di morti ma anche di malattie quindi legati a inquinanti chimici dell'aria o del suolo e contaminazioni in generale e poi ci sono altri tre ultimi target che uno riguarda la tema del fumo quindi del tabacco è interessante invece il 3.b rispetto al quale mi fermo un attimo vedete che l'obiettivo è supportare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e medicinali sia per le malattie trasmissibili che quelle non trasmissibili che di nuovo però in modo da occuparsi in modo primario delle nazioni meno sviluppate garantendo garantendo anche a loro in modo diciamo che se lo possano permettere l'accesso a questi vaccini e a questi medicinali e vedete che questo è un tema tutt'altro che banale perché capite che qua si interseca il tema dei brevetti perché associati ai vaccini medicinali ci sono sempre dei brevetti e quindi diciamo per utilizzarli è necessario pagare le royalties sostanzialmente gli stati sviluppati lo fanno normalmente però esistono esiste una dichiarazione di Doha con degli accordi sulla salita pubblica che proprio spinge e afferma il diritto delle nazioni meno sviluppate ad avere diciamo pieno accesso sia i medicinali che i vaccini e come dire che per loro debba essere rilasciato il tema della covertura brevettuale è già stato fatto in passato esiste un accordo che si chiama TRIPS è già stato fatto in passato vi ha già spiegato l'avete già sentito nelle lezioni precedenti che sicuramente c'è un tema umanitario su questo sul tavolo ma non è l'unico perché quando è stato fatto è stato fatto anche perché soprattutto tra tanti i vaccini è stato fatto per l'AIDS ad esempio è chiaro che è inutile l'abbiamo già detto lo dicono tutti coprire rispetto a una pandemia rispetto a un'infezione le nazioni ricche quando questa stessa pandemia può proliferare in quelle povere quindi in realtà è un qualcosa che ritorna a noi stessi quindi al di là del fatto diciamo ovvio di etico morale che sottende a questo obiettivo quindi questo è un tema molto importante questo è un tema molto importante e nel seguito io mi fermerò abbastanza sul tema economico perché purtroppo dico o meno male lo vedete voi spesso è un po' il driver di quelle che sono tutte le decisioni politiche e gli sviluppi degli stati al di là di altri temi che noi adesso stiamo vedendo dal punto di vista se volete un po' più alto etico morale però ricordatevi che c'è sempre un fatto economico dietro che spesso è il vero driver ultimi due ultimi due il 3C riguarda la possibilità di reclutare e fornare personale sanitario ecco tenete conto che la spesa sanitaria che sono una dei voci più grosse soprattutto nel tema di nazioni più sviluppate tengono conto di due parti una parte se volete quella che noi tecnici ingegneri architetti forse ci occupiamo di più è quella che vedremo tra un po' dei device medicali ma c'è tutta la parte del personale sanitario che è più grossa tra l'altro della seconda della prima che dicevo quindi il tema è questo nelle nazioni povere manca sia l'educazione la formazione ma anche l'assunzione e il numero quindi di personale sanitario sufficiente per creare un sistema sanitario che funzioni l'ultimo tema riguarda se volete la prevenzione e quindi il fatto di irrobustire la capacità di tutte le nazioni se ne ha parlato anche molto durante questa pandemia se fossimo o no sufficientemente attrezzati per affrontarla e quindi si parla proprio di questo tema quindi prevedere quindi in anticipo la sufficiente diciamo azioni per poter mitigare sostanzialmente i rischi derivanti da cigni neri come qualcuno li chiama tipo le pandemie quindi eventi con probabilità bassa di gravità molto elevata che tuttavia possono mettersi in grossissima difficoltà e possiamo anche lì lavorare su questo tema bene detto questo detto questo adesso introdurre diciamo quello che dicevo prima mi piacerebbe introdurre con voi il tema dei soldi il tema economico perché è chiaro che possiamo fare tanti programmi ma bisogna avere le risorse e parlare di sostenibilità vuol dire purtroppo o forse in primis sempre purtroppo parlare di sostenibilità economica e quindi e qui se volete se volete mi sposto un po' adesso nel seguito del mio discorso dal mondo intero a quello che riguarda noi che siamo sostanzialmente più fortunati cioè mi sposto alle nazioni ricche perché noi abbiamo questo problema pur essendo ricchi cioè volendo fare tutte queste cose anche se volessimo farle solo per noi non soltanto per gli altri la prima domanda che viene fuori è ma la spesa sanitaria continuerà supponendo che oggi lo sia ma in tutto sommato lo è evidentemente siamo qua continuerà ad essere sostenibile questa è una domanda molto importante perché se non continuerà ad essere sostenibile non soltanto andremo in difficoltà noi ma non saremo affatto in grado neanche di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dei quali abbiamo parlato prima la risposta se voi girate un po' insomma per la letteratura per il web sarebbe no la risposta sarebbe no se non facciamo qualcosa anche qui questo è un altro tema che se facciamo delle previsioni vengono fuori delle previsioni piuttosto negative vediamo noi che cosa potremmo fare noi tecnici ma allora perché no qui ci sono un po' di motivi sostanzialmente perché la cosa non funzionerebbe e allora vediamo di leggerne qualcuno ma qualcuno dice esattamente il contrario della silver economy di prima guarda che se tu continui a far invecchiare le persone a farle vivere più lungo ci saranno un mucchio più di malattie croniche le malattie croniche costano moltissimo e quindi non riusciremo più a sostenere la spesa sanitaria neanche per la parte diciamo che le malattie croniche non ce l'ha questo è un tema che sicuramente va in contrasto con quello dicevamo prima però diciamo bisogna tenerlo sul tavolo vediamo un altro altri dicono guarda questo è un problema invece tipico delle persone ricche alcune di queste malattie in realtà ce le causiamo da soli perché siamo ricche quindi sono legate all'aumento dell'obesità e dei problemi di sovrappeso se avessimo un'alimentazione vero pure questo si parla di nutraceutica un'alimentazione più corretta noi riusciremmo a rimanere in salute e quindi evitare queste malattie croniche tema se volete terzo un altro tema da buttare sul tavolo nel momento in cui diventiamo più ricchi siamo tentati a spendere di più anche in medicinali e quindi la medicina potrebbe diventare un tema di consumo anche quello e quindi come è successo in altri campi vabbè direi che questo non è forse centrale ma diciamo è vero pure questo mentre qui riporto altri temi un po' più preoccupanti perché quello che abbiamo detto fino adesso va bene però insomma sta nelle cose ci preoccupiamo però ci sono temi più preoccupanti se volete nel seguito per esempio legati al fatto che qui nel seguito io criticherò forse un po' l'industria biomedicale e anche i medici però chiaramente la mia critica è sempre una critica ovviamente come dire che vuole essere solo di stimolo a far meglio non certo un'opposizione però per esempio voi sapete che della salute vostra mediamente salvo internet che ci aiuta anche lì ma i medici si lamentano molto la decide il medico quindi è il dottore che decide la cura sostanzialmente perché lui sa no qual è la malattia e quindi determinano i bisogni del paziente sostanzialmente e questo non ci sarebbe niente di male su questo che ho detto fino adesso se non ci fosse qualcosa che vediamo dopo nel senso che anche diciamo la categoria medica potrebbe di ritorno avere un interesse per promuovere una cura piuttosto che l'altra questo lo riprenderemo dopo la prima cosa che possiamo dire però che spesso i dottori sono addirittura incentivati quasi come i vigili quando si occupano delle multe da meccanismi di finanziamento legato al volume di vendita dei farmaci quindi capite che qui cominciamo a introdurre un meccanismo che può essere un po' pericoloso poi l'altro tema importante che riporto qui sulla slide che diciamo è vero sempre non riguarda solo l'ampido sanitario quindi il dottore sceglie ok quindi il dottore decide quello che bisogna acquistare il paziente lo usa quindi decide per il paziente ma soprattutto almeno in Italia da noi il sistema sanitario lo paga capite che tutte le volte nelle quali noi scegliamo una cosa per un altro e paga ancora un terzo possono tendenzialmente diventare molto pericoloso penso che non devo esprimermi oltre perché poi ci sono tutti gli stadi intermedi nell'altro stadio c'è quando noi apriamo il portafoglio no e ci compriamo una cosa per noi lì chiaramente si chiude il cerchio perché diciamo dobbiamo prendere il denaro dal nostro portafoglio lo scegliamo noi lo useremo noi ci sono tutti le cose intermedie quindi potremo scegliere noi ma paga un altro già spendiamo di più tendenzialmente però capite che se noi scegliamo addirittura per un altro e paga ancora un terzo potrebbe tendenzialmente diventare molto pericolosa la questione se non ci sono dei meccanismi di controllo di feedback importanti e altre volte purtroppo poi ci sono anche qui delle visioni molto più diciamo negative e catastrofistiche se volete però è stato dimostrato è stato dimostrato che spesso in questo campo tipicamente i farmaci sto parlando dei farmaci non è la domanda che definisce l'offerta ma l'offerta che produce e stimola la domanda e questo chiaramente è molto grave questo chiaramente è molto grave in ultimo tra le varie cose che vi ho citato qua che quindi se volete sono tutte minacce no alla sostenibilità economica del sistema sanitario e molto spesso o meglio molto spesso no perché spesso questa cosa non si dice questa cosa che vi sto dicendo non si dice così diffusamente però la sanno molto bene invece tutti i grandi decisori in termini di acquisti di tecnologie sanitarie e si teme che le nuove e e e l'innovazione in generale delle tecnologie sanitarie siano e quindi sto parlando non soltanto di medicinali ma anche di device medici in generale o di procedure di cura e siano sempre più costose e quindi si ha paura di introdurre tecnologia anche su questo ritornerò perché si teme che sarà proprio la tecnologia quella che ci porterà fuori sostenibilità economica il nostro sistema sanitario non lo si dice così chiaramente in modo diffuso ma in realtà lo pensano tutti coloro che acquistano questi tipi di prodotti ok altro tema allora cosa abbiamo detto abbiamo detto attenzione benissimo salute salute per tutti questo costa già stiamo spendendo molto continueremo a avere un bilancio tra quello che spendiamo e quello che otteniamo diciamo positivo o andremo in crisi vi ho spiegato un po' di cose che ci spingono a dire che andremo in crisi e adesso però introduciamo un altro tema un altro tema è questo cioè detto tutto ciò cioè stante tutte le condizioni al contorno no fermiamoci ad esempio ad oggi quindi quelle sono le tecnologie quelle sono le industrie quelle sono i sistemi sanitari quindi ci occupiamo delle delle nazioni ricche verrebbe da farsi una domanda ma l'industria biomedicale è realmente efficace ed efficiente cioè a dire ok ho bisogno di quelle cose oggi mi costano quello ma la domanda è quello che io sto comprando lo tengo da un'industria che è efficace ed efficiente allora la mia impressione è e l'anticipo decisamente no e adesso vi dimostrerò perché forse vado nella parte un po' più se volete polemica no per quanto riguarda il mio intervento che poi cercherò di recuperare nel seguito allora intanto diciamo cosa si intende per efficace ed efficiente no che è una cosa che deve riguardare tutti l'efficacia ed efficienza l'industria i singoli anche noi enti pubblici dobbiamo essere efficaci ed efficienti efficace vuol dire che siamo in grado di risolvere un problema quindi rispetto a un problema noi siamo efficaci lo sappiamo risolvere ok ma l'efficienza cos'è no l'efficienza invece vuol dire che riusciamo a farlo aumentando la qualità e riducendo i costi cioè il problema di efficienza è se il costo è giusto non se la cosa funziona la cosa funziona ma il costo è giusto o no ecco perché altrimenti stante tutte le nostre condizioni al contorno abbiamo un'altra cosa da fare cioè dobbiamo occuparci di riuscire in qualche modo vedremo poi come a far diventare qualora non lo fosse ovviamente io sto esagerando un po' nei concetti però sicuramente ci sono spazi enormi nell'industria biomedicale molto più elevati di tutti gli altri ambiti industriali di inefficienza enormi e cosa vuol dire questo vuol dire che se noi riusciremo a recuperare questi spazi avremo più risorse per fare tutto quello che abbiamo detto prima non soltanto per mantenere più sostenibili i nostri sistemi ma anche per aiutare a diventare sostenibili quelli degli altri allora perché vi dico che non lo è efficiente e vi farò qualche esempio vi dimostro perché e in particolare mi occupo ovviamente anche se è un po' come prendersela con le banche oggi quindi non non me ne vogliano di quelli cosiddetti big pharma che sono le aziende farmaceutiche più grosse al mondo i top 10 top top 15 top 10 insomma e vediamo di capire perché non lo è e quali sono i motivi che aiutano questo tipo di ambito ad essere inefficiente allora io ho elencato ne ho elencati alcuni tra l'altro alcune cose si trovano anche diciamo anche dai rapporti dell'AIFA italiano comunque diciamo primo punto che sembra stranissimo il prezzo dei farmaci è segreto cioè il prezzo dei farmaci non è pubblico quindi è in particolare non mi sto riferendo al farmaco da banco piuttosto che quello che noi compriamo in farmacia perché quello invece ovviamente pubblico lo è anche se anche in quel tema ci sarebbe da vedere delle cose molto interessanti tipo che ne so non capisco come mai l'aspirina di una certa marca che non dico venduta in Francia costa X e venduta in Italia costa 3X però lo stabilimento di produzione è lo stesso ecco ma io mi sto riferendo invece a tutti diciamo i medicinali e i dispositivi medici che acquistano gli ospedali o se volete le regioni per conto dei sistemi sanitari regionali ecco il prezzo è segreto viene fatto tutto tramite gara quindi l'idea è che la gara ci garantisce rispetto a diciamo acquisti sbagliati sia in termini di inefficacia ma anche di inefficienza ma il prezzo è segreto è riservato cioè non sappiamo non è pubblico non sappiamo che cosa paga la regione Piemonte per una cosa cosa paga la regione Sicilia per la stessa cosa e per esempio che cosa succede succede ad esempio lì metto nomi e cognome ne ho preso uno l'anticancro della Roche Herceptin nel 2018 veniva pagato in Piemonte 163 euro e in Umbria ben 762 euro lo stesso farmaco due gare diverse con due esiti diversi questo è il risultato ma si potrebbero fare 2000 casi ma anche casi enormi di nuove gare per lo stesso farmaco il Bosentan che è un farmaco per l'ipertensione è passato in una gara successiva di riacquisto da 2210 euro a 27 euro e un altro ancora da 1907 a 27 cioè si è ridotto del 99% dico ma come è possibile allora capite perché vi dico che questo è un ambito industriale molto particolare rispetto a qual lavorare perché non penso che se voi comprate un'automobile due anni dopo vi costa l'un per cento di quel che costava prima perché ovviamente c'è diciamo molto meno margine no il motivo qual è che c'è molto meno margine tra il prezzo di vendita e il costo di produzione qui invece abbiamo normalmente nell'industria medicale dei margini enormi tra il prezzo di vendita e il costo di produzione vedremo di capire oggi anche questo perché lì ci sono altri casi anche di cose molto meno costose una siringa per insulina costa 33 3,3 centesimi in Liguria ma costa 16 centesimi e mezzo in Lazio 5 volte di più la stessa un ago per sempre per l'iniezione di insulina passa da un centesimo e mezzo sempre in Liguria a 16 centesimi 5 10 volte non si capisce perché ecco o meglio cominciamo a vedere di capire perché quindi il motivo sicuramente come vi dicevo è che c'è un'enorme distanza no tra il prezzo di vendita e il costo di produzione non mi sentirei di dire che il costo di produzione è trascurabile rispetto al prezzo di vendita ma sui farmaci spesso questo succede ed è una peculiarità dell'industria biomedicale capitano cose importanti che spesso non vengono pubblicizzate a sufficienza nel 2019 l'autorità che si occupa della competizione no in Italia ha dato una multa di ben 182 milioni di euro alle due aziende Big Pharma chiaramente Antitrust Novartis e Roche perché hanno lavorato poi ci sono dei testi che se volete leggere sono anche preoccupati hanno lavorato per anni in modo da dimostrare che due farmaci che erano lo stesso farmaco in realtà erano differenti e tra l'altro attenzione in ovviamente commissioni di interessi perché i due farmaci erano questo è molto preoccupante non della stessa azienda ma due aziende diverse quindi apparentemente in una concorrenza sana la seconda azienda cioè quella che lo vendeva molto di meno sarebbe dovuta essere molto interessata a dimostrare che era la stessa cosa per venderne di più ma evidentemente l'interesse è un altro quella della tutela dei mercati e quindi questa è la multa che non è stata pubblicizzata per niente il tema è dei due farmaci si chiamano Lucentis e uno si chiama Avastin e uno costa ben 902 euro l'altro costa 82 euro quindi vedete che la differenza costa un decimo meno di un decimo e sono esattamente identici semplicemente l'uso inteso parleremo anche di questo è differente nel senso che il secondo quello più caro il Lucentis era per il trattamento della maculopatia nell'anziano e si era visto che il Avastin che aveva dei componenti simili che invece era venduto per il tumore Alcolon faceva esattamente la stessa cosa era sostanzialmente lo stesso principio attivo ecco la cosa interessante e preoccupante dietro a questa multa non è solo l'accordo tra le aziende ma tutto il corollario che si crea di pubblicazioni scientifiche a supporto di un'attese piuttosto che l'altra ma anche di addirittura associazione di pazienti che denunciavano ovviamente dei problemi nati dall'utilizzo del farmaco Avastin meno costoso rispetto all'altro per il trattamento della maculopatia che si sono rivelati poi in seguito inesistenti cioè in pratica anche i pazienti le associazioni di pazienti hanno segnalato all'agenzia italiana del farmaco problemi capite che la cosa qui diventa preoccupante perché il concetto di commissione di interessi un attimino si comincia a allargare ancora ecco si potrebbero fare altri casi e in parte diciamo anticipo quello che dirò nella seconda parte uno potrebbe dire sì ho capito tu mi stai dicendo che c'è una grossa distanza tra il prezzo di vendita e il costo di produzione però non tieni conto per fare un farmaco tutto quello che bisogna fare in particolare tutta la ricerca che dobbiamo fare vero vero lo vedremo però è altrettanto vero altrettanto vero che un farmaco anticancro l'Alkeran viene venduto e quindi con il relativo brevetto no dalla GlaxoSmithKline alla Aspen qualche anno fa e quindi cosa vuol dire che la GlaxoSmithKline aveva fatto tutto cioè la parte ovviamente di ricerca la parte di sperimentazione clinica la parte di certificazione ok e acquistando il brevetto acquista anche gli stabilimenti quindi viene prodotto nello stesso stabilimento di prima non viene fatto niente il prezzo sale del 1500 40% lo stesso farmaco la stessa azienda capite che qui allora qual è il risultato di tutto ciò il risultato di tutto ciò è che lo stesso ministro della salute nostro dice che una semplice acquisto più prudente dei farmaci può permetterci di risparmiare 2,5 miliardi di euro all'anno che è più o meno il costo della che abbiamo sostenuto per la vaccinazione contro il covid cioè è una cosa enorme capite che quindi qui vuol dire che ferme tutte le altre condizioni al contorno qui è un tema importante rispetto al quale dobbiamo lavorare perché vuol dire che a parità di condizioni riusciremmo a recuperare una parte importante di risorse prima di fermarci sempre in tema un attimino distruttivo che cercherò un attimino di recuperare dopo vi presento ancora questa slide che riguarda quello che ho chiamato il pharma system a dimostrare che non è un problema soltanto della industria e nello specifico mi sto parlando di quella farmaceutica ma in generale biomedicale ma è un sistema che coinvolge molti altri attori purtroppo che si trovano nella sostanza quindi arrivo al fondo poi leggiamo queste note si trovano nella sostanza alla fine ad essere in conflitto di interessi questo è il problema spesso si parla di conflitto di interessi e allora adesso vediamo vediamone alcuni ecco in questo ci sono delle voci di spesa dei bilanci delle società farmaceutiche che vengono chiamati trasferimenti di valore e cosa vuol dire vuol dire degli trasferimenti di denaro che apparentemente sembrerebbero senza ritorno in realtà trasferimenti di valore perché invece il ritorno c'è ed è molto importante allora vediamone alcune di questi trasferimenti di valore allora intanto l'AIFA l'associazione italiana del farmaco esiste l'EMA che invece è l'European Medicine Agency che è l'agenzia del farmaco europea quella che ha dato via l'utilizzo dei vaccini eccetera ecco interessante sapere che è finanziata all'84% dalle compagnie stesse che lei deve controllare va bene però in sostanza capite che bisognerebbe intanto preoccuparsi un po' anche di questo fatto qua i dottori i dottori soltanto in Italia per quanto riguarda studi clinici sperimentazione clinica eccetera ricevono 550 milioni all'anno soltanto in Italia no per carità questo non vuol dire che non faccia il loro lavoro bene però capite che occupandosi di compliti di interessi bisogna occuparsi anche di queste cose l'altra cosa interessante è che la maggior parte delle società mediche sono finanziate dalle società farmaceutiche in modo importante cosa ancora più preoccupante è quella che vi dicevo prima della maculopatia c'erano le associazioni dei pazienti che dicevano che il farmaco quello meno costoso dava problemi ma non era vero non era vero ma anche la maggior parte delle associazioni di pazienti sono finanziate dalle società farmaceutiche pure diversi sistemi sanitari nostri no? ASL sono e perfino il nostro istituto superiore di sanità quindi capite che voglio dire ovviamente misura minore capite che però è un sistema perché ho detto è un sistema che può andare in crisi può presentarsi a dei cortocircuiti se non ci facciamo attenzione da qui diciamo potremmo quindi questa è la prima parte se volete di sistema sempre parlando di pharma system forse potevo mettere nella slide precedente potevo citare altri elementi invece che sono la conseguenza di questo sistema sbagliato cioè esiste letteratura e fior di letteratura non soltanto che dimostra il funzionamento dei farmaci ma dimostra che ci sono un mucchio di farmaci che non servono a niente se non magari essere qualche volta dannosi no? un esempio in Italia è il tema della vitamina D la vitamina D venduta in Italia è il terzo più venduto farmaco in Italia e ci sono un mucchio di letterature che dicono che nella sostanza non servirebbe poco o a niente no? e noi spendiamo 320 milioni di euro per la vitamina D per esempio poi vabbè temi diciamo correlati a questo sistema ogni italiano prende una media di una pastiglia e mezza al giorno e diciamo metà degli anziani raggiunge le 10 pastiglie al giorno chiaramente potranno essere tutte utili ma viene la domanda se lo sono perché sappiamo che ad esempio è dimostrato che l'eccesso di antibiotici no? uccide una persona all'ora sempre in Italia no? e se ne parla tanto ma gli antibiotici continuano a essere prescritti no? tranquillamente ecco in Francia c'è un sito molto interessante dei quali riporto sotto il link che ogni anno ogni anno sulla base ovviamente di evidenze cliniche sulla base di evidenze cliniche stila una lista nei vari campi no? dal cancro alla cardiologia alla diabete qui ne ho messo qualcuno la lista degli farmaci che sono più dannosi che utili quindi è un discorso di rapporti costi benefici e ogni anno questa lista supera il centinaio nel 2021 mi sembra che siano 105 bene quindi in ultimo e poi dopo ripeto passerò alla seconda alla seconda slide la seconda parte della lezione qualche altra slide così qualche altra informazione che se volete è ovvia anche però teniamone anche conto di questo le società farmaceutiche ovviamente hanno avuto un grosso ritorno direi che è banale il discorso dalla pandemia perché confrontando il primo trimestre primo trimestre di alcune grosse società qui c'è la Johnson & Johnson la Pfizer la AstraZeneca la Moderna tutte tra il primo trimestre del 20 e il primo trimestre del 21 abbiamo avuto degli incrementi molto importanti di 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 fatturato cioè la Pfizer ha avuto un incremento di fatturato del 45% capite e quindi questo diciamo che lo si poteva lo si poteva immaginare non stupisce no? ma e non stupisce neanche che si stiano preoccupando no? si stiano preoccupando dalla sospensione dei vaccini perché diciamo pensano di averne ovviamente delle riduzioni di questi numeri la borsa statunitense ha cominciato a rispondere diciamo in riduzione del valore delle azioni perché insomma ovviamente sono preoccupati di questa riduzione di vaccini che è esattamente la preoccupazione opposta di quella che abbiamo noi invece che vorremmo che la pandemia ovviamente finisse e che i vaccini si riducano nel numero di somministrazioni no? visto che abbiamo dovuto farne due più il booster questi sono dati ovviamente del sole 24 ore in ultimo e poi finalmente mi fermo e potremo discutere insieme anche di questa prima parte viene fuori una domanda qua la domanda è ma come mai in tutti gli altri settori industriali l'innovazione e la tecnologia se vuole dire che sono le cose che ci riguardano entra a piene mani sostanzialmente ma entrando a piene mani se voi fate un rapporto costi benefici noi abbiamo un abbassamento del prezzo c'è un aumento del valore no? value for money cioè aumenta il valore e come mai succede e invece qui non succede nell'industria biomedica i prezzi sono sempre più alti sono sempre a crescere qualche volta vi parterò nel seguito vi farò degli esempi qualche volta gli acquisti come anche qui forse si poteva immaginare gli acquisti centralizzati regionali rispetto a quale i medici spesso si lamentano in modo enorme hanno indotto delle importanti riduzioni di prezzi però sono degli sporadici degli esempi sporadici al momento quindi vedremo di capire anche questo nella seconda parte e quindi la domanda è perché uno potrebbe dire ma perché il prezzo è alto perché ti salva la vita no? è questo il motivo sicuramente il fatto che ci salvino la vita è un motivo per cui questo sistema sia nato e funzioni così però potremmo farci delle altre domande perché se il problema è salvare la vita io lì ho messo qualche figura bisognerebbe capire quanto dovrebbe costare un salvagente quanto dovrebbe costare una corda d'arrampicata un imbrago o anche un sistema airbag che vi assicuro che in proporzione della tecnologia che è connessa costa molto meno di alcune cose che ci costano in sanità e il motivo lo dicevo già prima uno lo potrebbe legare non soltanto al fatto che salvano la vita ma alle tematiche connesse di ricerca di sicurezza e di certificazione vedremo che anche qui è possibile farci qualche domanda ma tratterò questo tema nello specifico nella seconda parte della mia lezione per cui mi fermo qui al momento e vi ringrazio eccoci di nuovo qui per la seconda parte della nostra lezione ci eravamo lasciati con una domanda che riguardava appunto questo tema dell'efficienza e dei costi che però tralascerei un attimo visto che fino ad ora abbiamo fatto un po' tra virgolette distruttivi e adesso cominciamo un po' a costruire inizierei a costruire parlando del Politecnico quindi poi riprendiamo la domanda la riprenderò poi l'ultima slide dopo però intanto diciamo la mia finalità dei prossimi minuti è quella di raccontarvi un po' velocemente quello che noi siamo in grado di fare al Politecnico su questo tema della salute anche perché abbiamo investito molto negli ultimi anni direi negli ultimi vent'anni in termini di docenza e quindi di studenti di ingegneria biomedica che vengono da noi anche da altre parti d'Italia e del mondo ma negli ultimi 3-4 anni abbiamo investito molto anche in termini proprio di attrezzature di spazi e di ricerca per cui pensiamo di poter dire la nostra sostanzialmente pur essendo un'università tecnica e quindi inizio sostanzialmente così magari voi siete ai primi anni e quindi può adarsi che il Politecnico vi sembri ancora una cosa non così nota vi racconto due storie veloci e penso che possa esservi utile quindi intanto diciamo che il Politecnico è diviso in 11 dipartimenti quindi abbiamo 11 dipartimenti che cosa sono i dipartimenti dipartimenti sono la sede sostanzialmente di tutte le attività didattiche di ricerca quindi direi che sono delle strutture che potremmo dire dal punto di vista organizzativo verticali che sono depositarie delle discipline quindi all'interno dei dipartimenti ci sono se volete le conoscenze visto dall'esterno il Politecnico potrebbe sembrare un monolita per chi non ci conosce in realtà è tutt'altro cioè ci sono competenze molto differenti e quindi è interessante parlare di interdisciplinarietà come ci ricordava il professor Pievani anche all'interno del Politecnico pur ovviamente essendo se volete un'interdisciplinarietà limitata alle scienze esatte in ogni caso anche di questo si parla ecco questi 11 dipartimenti che vedete qua strutture verticali ne abbiamo tre di ingegneria industriale che sono uno di energetica uno di ingegneria meccanica e aerospaziale quale io appartengo ad esempio è uno di scienze applicate e tecnologia poi abbiamo i dipartimenti dell'informazione delle tecnologie dell'informazione di elettronica e di informatica abbiamo i quattro dipartimenti due di architettura e due di ingegneria che riguardano l'ingegneria civile e ambientale l'architettura design industriale e poi abbiamo due dipartimenti che lì sono messi insieme ma insomma sono un po' differenti uno di matematica che diciamo ci aiuta ovviamente a dare le basi vi da le basi le scienze di base l'altro che la fisica e la chimica stanno insieme al dipartimento di ingegneria di scienza applicata e tecnologia scusatevi e poi c'è il dipartimento di ingegneria gestionale della produzione che è anche quello diciamo dal punto di vista didattico anzi è il più carico di tutti quindi queste sono le strutture del politecnico dicevo apparentemente monolite in pratica siamo molto diversi il politecnico è grosso spesso le persone non si parlavano o non lavoravano insieme più che non parlarsi e allora nel 2017 il politecnico tra l'altro seguendo anche esempi di prestigiosi università straniere decide di fontare i centri interdipartimentali i centri interdipartimentali che cosa sono sono invece delle stratture invece che verticali orizzontali cioè il tema è proprio quello di mettere insieme discipline diverse verso delle sfide che la società ci propone quindi l'idea è di in modo dinamico tra l'altro perché magari il centro che oggi c'è domani potrebbe sciogliersi perché non è più una sfida attuale ne nascono sempre di nuove ma mette insieme le competenze diverse e quindi ne avevamo la nascita 11 anche di centri che sono quelli messi qua adesso ce n'è qualcuno in più siamo a 14 in ogni caso vedete che si parla di mobilità sostenibile si parla di acqua si parla di fotonica innovativa si parla di di energia insomma ce n'è di diverso tipo si parla di robotica collaborativa si parla di elettronica di potenza e tra i vari vedete che ce n'è anche uno che si chiama Polito Biomed Lab che io ho diciamo l'onore insomma di coordinare che raccoglie tutti i colleghi del Politecnico interessanti al tema della salute sostanzialmente e diciamo ognuno di questi centri raccoglie più dipartimenti è quello del quale vi parlerò brevemente perché un po' vuole essere la risposta a tutto quello che abbiamo visto prima prima abbiamo distrutto un po' adesso vogliamo costruire a sette dipartimenti coinvolti e quindi abbiamo dal dipartimento di matematica quello di ambiente territorio abbiamo sette dipartimenti coinvolti diciamo oltre a diciamo quelli più grossi dove naturalmente vivono i colleghi che insegnano al corso di lavoro di ingegneria biomedica la cosa interessante è che la regione Piemonte due anni dopo evidentemente ha capito o avevamo capito noi dove si stava andando ha deciso di creare delle infrastrutture di ricerca d'accesso aperto sostanzialmente il tema è quello di dire io ti aiuto a diciamo crearla questa infrastruttura tu però poi me la metti a disposizione delle aziende e accetto aperto vuol dire diciamo non discriminatorio ma lo vuol anche dire che insomma essere in grado di fare delle attività dei costi ragionevoli eccetera l'idea è più verso la PMI che non se le può permettere queste cose cioè le piccole mezze imprese però non è esclusivo assolutamente e in realtà collegato queste infrastrutture di ricerca la regione ha poi finanziato le stesse PMI non le grosse per venire da noi a fare innovazione fare innovazione a fare certificazione e trasferimento tecnologico e gran parte dei nostri centri che avevamo diciamo fondato hanno ricevuto il booster cosiddetto quindi la regione ci ha diciamo messo ulteriori risorse il politico per darvi qualche numero non sono numeri enormi per altri temi però sono numeri importanti investì con 3 milioni di euro di risorse fresche su ad esempio il nostro centro di ingegneria biomedica e la regione ne aggiunse due quindi noi adesso abbiamo un'infrastruttura di ricerca che si chiama con un nome un po' strano pastis si chiama che in realtà può far pensare all'aperitivo può far anche pensare al nostro dialetto piemontese a una cosa complicata ma o anche un pasticcio purtroppo però avevamo anche una importante se andate a vedere difesa risorgimentale che si chiamava in questo modo perché diciamo l'idea è di avere qualcosa di complesso ma di efficace non complesso nel senso che si semplifica facilmente ma complesso nel senso che tiene insieme più 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 idee e in realtà poi pastista per parco per le tecnologie innovative per la salute velocemente abbiamo l'idea qual è l'idea è quella di rispondere ovviamente alle sfide che ci arrivano dalla società per quanto riguarda proprio la salute e il benessere e l'idea era quella di mettere insieme colleghi che arrivano da tutti i dipartimenti quindi sicuramente gli ingegneri biomedici tutti hanno aderito che diciamo per natura loro operano in questo settore ma anche tutti gli altri che invece per le loro specifiche competenze e interesse hanno partecipato in questo momento i colleghi coinvolti superano abbondantemente le 70 unità quindi uno dei centri che diciamo prevede la partecipazione di più colleghi e nel finanziarci questa iniziativa a Pastis la regione ha unito anche solo dal punto di vista delle competenze e non diciamo delle attrezzature che sono tutte al Politecnico anche colleghi dell'Università degli Studi di Torino quindi in particolare colleghi di area medica con i quali noi collaboriamo già perché al Politecnico abbiamo ad esempio già da anni un dottorato che si chiama di bioingegneria e scienze medico-chirurgiche che è fatto congiuntamente da colleghi medici che siedono allo stesso tavolo di noi ingegneri la finalità come vi dicevo qual è? ecco la finalità e qui ritornerò su questo tema anche facendo un po' una chiosa a quello che diceva prima di me il collega professor Pievani non è quella della ricerca di base ecco vi ricordate che il professor Pievani ha speso parole importanti per quanto riguarda le importanze della ricerca di base rispetto alla quale io ritornerò su questo tema ecco qui il tema non è la ricerca di base è l'opposto cioè il trasferimento tecnologico quindi il tema è se volete la ricerca più applicata che c'è esiste anche un numero che si chiama TRL che è diciamo l'avvicinanza di un'idea fino al mercato quindi i primi TRL 1, 2, 3 riguardano la ricerca di base poi c'è il proof of concept e alla fine si arriva sull'industrializzazione del mercato quindi la finalità è diciamo verso proprio la ricerca industriale della PMI come è fondato e come vi dicevo i colleghi sono tanti che partecipano io adesso vi faccio questo flash forse solo per darvi un'idea di quello che si può fare al Politecnico proprio per rispondere alle sfide di prima allora i pilastri sono tre e li abbiamo chiamati uno è di biomeccanica integrativa quindi più vicino all'ingegneria industriale uno è Information Communication Technologies cioè più vicino alle scienze dell'informazione elettronica informatica e uno entrambi questi se volete sono più vicini all'ambito industriale poi ce n'è una parte invece che lavora sul piccolo lavora sulla cellula o se volete addirittura dalla cellula in giù l'abbiamo chiamato nuovi materiali e nanotecnologie per le bio applicazioni qui vediamo un po' di immagini dei tre campi che andrò diciamo brevemente a riassumere allora iniziamo dal primo e nel primo qui vedete degli adesso vi farò vedere velocemente due cose le facilities cioè che cosa abbiamo acquistato e che attrezzature abbiamo a disposizione su quale anche voi se vorreste in futuro potreste lavorare in questa infrastruttura e che cosa stiamo facendo con le stesse e qui iniziamo dalla parte di biomeccanica e per esempio possiamo dire che abbiamo delle macchine di prova che ci permettono di testare caratterizzare materiali dispositivi medici protesi eccetera con diverse scale quindi partiamo dalla due cosiddetti nano indentometri che sono macchine che hanno risoluzione delle nano newton e delle nano e dei nanometri e quindi la macchina di prova è una macchina che detto proprio in soldoni misura delle forze e le deformazioni degli oggetti che vengono soggetti alle forze stesse quindi la prima cosa che mi può venire in mente è caratterizzare ad esempio un materiale per trovare il modulo elastico per dire proprio la cosa più semplice ecco partiamo da oggetti in grado di fare prove molto di dettaglio con forze molto piccole per poi proseguire nella mesoscala quindi abbiamo delle macchine dinamiche che sono in grado di lavorare sia i moni assiali che il biassiale il biassiale serve per esempio per caratterizzare dei tessuti che naturalmente lavorano in stato di tensione biassiale pensate che ne so alla pelle per esempio piuttosto che ai leaflet di una valvola cardiaca per poi crescere e quindi andiamo invece nel campo delle protesi e quindi arriviamo a 3000 insomma e arriviamo fino a 15000 newton e siamo anche in grado di avere qui oltre alla macchina biassiale in piano abbiamo anche la macchina che è in grado contemporaneamente di applicare una forza ed una torsione e oltre a queste macchine sempre nell'infrastruttura abbiamo delle attrezzature in grado di fare la cosiddetta DIC digital image correlation che vuol dire sostanzialmente a pieno campo riuscire a fare delle mappe di deformazioni adesso voi siete i primi anni non tutti forse saranno interessati ai temi della meccanica dei soldi però fondamentalmente è importante capire per l'integrità di una struttura in ogni punto quali sono le sollecitazioni e le deformazioni queste ci permettono di vederle con sistemi ottici a pieno campo abbiamo dei laser che sono in grado di vedere invece in dinamica delle vibrazioni ad alta frequenza abbiamo delle termocamere infrarossi per vedere dei fenomeni che riguardano anche le cellule andando in picco e poi abbiamo anche dei dispositivi invece per la velocimetria laser cioè per il tracking di particelle diciamo che si muovono all'interno di un fluido abbiamo una parte di meccanica ventilatoria quindi abbiamo un simulatore di paziente questa parte qui non l'avevamo non era prevista e penso che immaginate che il covid ci ha aiutato a sviluppare anche questa parte che non c'era perché durante il covid insieme a una piccola media impresa che si chiama PR abbiamo brevettato e stiamo sviluppando e anche lì siamo stati finanziati della regione un ventilatore polmonare quindi ci serviva anche la parte di caratterizzazione e simulazione abbiamo un paziente ovviamente un fantoccio di pazienti in grado di respirare simulare respiri patologici o fisiologici abbiamo tutta la parte di cardiovascolare quindi siamo in grado di generare dei flussi ventricolari con sistema pulsatile naturale fisiologico o non e abbiamo anche i simulacri di vari vasi aortici più discendenti ascendenti coronarici cioè siamo in grado di simulare e quindi perché facciamo la simulazione non per ovviamente solo imitare la realtà ma perché arrivano le piccole e medie imprese devono validare i loro dispositivi diciamo medici per esempio un filtro antiembolico e noi siamo in grado di farlo e invece stiamo lavorando al completamento di questa attrezzatura che avverrà nei prossimi mesi e stiamo anche comprando dei bracci robotici collaborativi che noi abbiamo l'idea di utilizzare nella sostanza per test di usabilità cioè sono molto importanti diciamo nella certificazione dei dispositivi sulla quale rientrerò tra poco i test di usabilità che vuol dire sostanzialmente verificare che quel particolare dispositivo medico sia utilizzabile in modo ottimale non solo dall'operatore ma anche dal paziente qui in realtà pensiamo all'operatore l'idea è quella di simulare le operazioni chirurgiche cioè noi sostanzialmente con una cosa che vi farà vedere dopo che è una stanza in analisi del movimento copiamo i movimenti che fa il chirurgo con un robot però il chirurgo non è in grado di dirci le forze che sta applicando le velocità agli spostamenti il robot si ci dirà in ogni istante quali sono le forze che il chirurgo applica piuttosto che le velocità che sta realizzando ecco oltre al fatto che vi dicevo prima è che invece che ricerca di base qui siamo sul trasferimento tecnologico ancora più giù e ci sono se volete collegate col trasferimento tecnologico e ci entrerò anche su questo tema perché è fondamentale nel campo dei dispositivi medici ma anche dei farmaci sono le tematiche di certificazione cioè voi sapete che qualsiasi dispositivo che guardate che è venduto in Europa deve avere questo marchietto CE ecco il marchio CE dipende di che cosa stiamo parlando può essere una cosa molto complicata da ottenere qui voi capite che generalmente lo è è una cosa molto complicata da ottenere e noi diciamo che mi sentirei di dire in modo nascente al Politecnico perché non è che ci occupassimo di questa cosa qui in modo esteso tutt'altro stiamo lavorando anche sulla certificazione cioè aiutiamo le aziende a vedremo tra un po' redigere il famoso fascicolo tecnico che è la base poi per ottenere la certificazione fascicolo tecnico che redigere ovviamente non vuol dire riempire un po' di carta che pure bisognerà riempire ma c'è tutta una serie di prove sperimentali da fare vedremo anche di purtroppo o meno male ecco nel campo specifico di sperimentazione clinica tra un po' capirete perché dico purtroppo perché le cose vanno fatte ricordiamoci dell'efficienza quando servono ok e quindi siamo attivi anche qua sia per quanto riguarda la parte sperimentale lì ci sono degli esempi che riguardano sostanzialmente l'ortopedia e la chirurgia addominale e uroginecologica per quanto riguarda le mesh che sono delle reti sostanzialmente per il trattamento delle ernie appunto addominali inguinali piuttosto che dell'apparato uroginecologico quindi in campo maschile o femminile va bene quindi si lavora su questo non mi trattengo oltre tema importante anche sugli elettromedicali tutti i dispositivi che riguardano oltre un qualcosa di funzionale anche una parte elettrica complicano ulteriormente la certificazione ce ne stiamo occupando per il ventilatore perché ad esempio ovviamente il ventilatore polmonale è un elettromedicale va bene qui c'è qualche figura che riguarda quante test che facciamo sulle mesh per la chirurgia ma non mi tratterrei qui vi faccio vedere invece qualche test sempre di che questi sono tutti i test che riguardano la certificazione quelli che sto facendo vedere adesso quindi non lo sviluppo il prodotto paradossalmente addirittura è già venduto poi tra poco capirete perché bisogna certificarlo di nuovo e quindi diciamo che forse l'unico proprio sviluppo è quello che vedete a sinistra che è un laryngoscopio sostanzialmente che invece quello non è ancora venduto poi abbiamo altri dispositivi per l'ortopedia ecco gran parte di queste attività che purtroppo di nuovo dico vengono svolte sempre sperimentalmente tipicamente perché dico purtroppo perché la sperimentazione costa possono essere fatte in silico questo in silico per non addetti del mestiere vuol semplicemente dire simulazione numerica però in ambito biomedical in vitro in silico in vivo in vivo vuol dire fare le prove direttamente nel paziente ex vivo fare le prove su materiali prelevati dal paziente in vitro vuol dire in laboratorio in silico vuol dire col computer sostanzialmente ecco si può fare molto col computer come vedremo come si fa in tutti gli altri campi qui è meno comune ci torneremo su questo tema qua perché ci perché è utile farlo col computer perché chiaramente i costi sono molto più bassi possiamo essere molto più efficienti e quindi noi spesso quando le aziende ci chiedono di fare la classica prova sperimentale che oramai siamo avvezzi a fare da sempre noi associamo la prova sperimentale quella numerica a dimostrarti io te lo potevo già dire prima questa cosa qua ovviamente non glielo diciamo al cliente che gli diamo la prova e lui gli basta ma facciamo pubblicazioni scientifiche a riguardo in modo da dimostrare che anche le normative possono essere migliorate e cambiate in modo da renderle più efficienti non c'è motivo di spendere soldi laddove non servono quindi la stessa cosa che avete visto prima riguarda anche gli stent anche qui stiamo facendo dimostrando che per diciamo provare le performance più meccaniche di uno stent questo è uno stent per una valvola aortica sostitutiva non è necessario fare tutto sperimentalmente ecco andando velocemente alle altre aree adesso vi faccio vedere più o meno che cosa abbiamo invece nell'area delle delle ICT cioè delle tecnologia dell'informazione della comunicazione anche qui chiaramente la finalità è quella di se volete più nel piccolo però voglio dire associabile a quella precedente quindi vogliamo sviluppare dispositivi strumenti algoritmi modelli strategie per capire i sistemi che funzionano in condizioni fisiologiche e capire anche quando sono in condizioni patologiche riuscire a fare una diagnosi corretta che cosa abbiamo comprato che cosa abbiamo a disposizione allora abbiamo una grossa attrezzatura che riguarda l'elettromiografia di superficie cioè l'idea l'elettromiografia di superficie è una tecnica che permette di misurare l'attivazione muscolare e quindi capire i vari muscoli con che tempisti che vengono fatti intervenire che forza stanno sviluppando e chiaramente mettendolo in contatto anche in relazione ad altre cose abbiamo delle macchine per ultrasuoni aperte cosa vuol dire aperte voi quando andate a fare un'ecografia in ospedale vi mettete sul lettino e il medico prende la macchina e viene fuori risultato ma non è che può intervenire su i parametri col quale il raggio la frequenza ultrasonoro viene mandato eccetera noi abbiamo un ecografo aperto quindi siamo in grado di giocarci cambiare le potenze in gioco eccetera abbiamo anche tutti i sistemi per l'acquisizione in modo aperto indifferentemente di segnali elettrofisiologici quindi non abbiamo l'elettroencefalogramma da solo elettrocardiogramma da solo come c'è in ospedale ma abbiamo una macchina con 90 cavalli che può prendere il segnale cerebrale piuttosto che quello cardiaco eccetera abbiamo ovviamente tema molto centrale nella ricerca per quanto riguarda anche il PNRR cioè proprio il tema di aumentare la fornitura con efficacia di salute alle persone della telemedicina e quindi abbiamo hardware e software per questi temi e abbiamo anche un gruppo di colleghi che si occupa tema molto importante anche questo della certificazione del software medicale che in passato diciamo era più semplice oggi è più complicata anche quella qui scorro velocemente vi faccio vedere che per quanto riguarda le applicazioni di elettromiografia di superficie abbiamo sia i sensori puntuali che quelli a matrice quindi siamo in grado di metterle anche in in relazione con le varie vedete qui a matrice quindi riusciamo a avere una mappa proprio anche del muscolo attivato abbiamo anche delle macchine che permettono chiaramente di affaticare tipo macchine sportive sia l'arto superiore che l'arto inferiore ecco poi è molto importante dal punto di vista della dell'attrezzatura anche dello sforzo economico che abbiamo profuso abbiamo una stanza grossa piuttosto grossa 70 metri quadri dove facciamo dell'analisi del passo l'analisi del passo è fatta con sistemi ottici è dotata di 14 telecamere fisse e poi abbiamo anche la possibilità di andarla a fare a casa della persona abbiamo anche parti mobili abbiamo delle pedane siamo in grado di misurare le forze a terra quindi riusciamo a ricostruire praticamente i movimenti e valutare anche fare delle diagnosi cliniche sia per quanto riguarda per esempio la riabilitazione da un'operazione per quanto riguarda il gesto sportivo oppure come vi dicevo prima per quanto riguarda la registrazione di una manovra chirurgica per poi la successiva valutazione di usabilità qui chiaramente oltre all'analisi del passo to cure che è fatta con sistemi ottici delle palline che vengono attaccate al paziente che cammina c'è la possibilità di unire anche la miografia di superficie che abbiamo detto prima in modo da avere dell'idea anche di attivazione muscolare ci occupiamo di postura quindi vedere il soggetto sta fermo ma voi sapete che per stare fermo tutti noi abbiamo delle piccole azioni di controllo per stare in piedi stare in piedi sembra una cosa banale noi abbiamo imparato lo facciamo senza pensarci ma è una dal punto di vista ingegneristico del controllo è una cosa straordinaria e però non tutti diciamo operano dei controlli così piccoli per cui i controlli più grossi sono messi in 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 relazione ad alcune patologie quindi facciamo anche questo e poi come vi dicevo prima per quanto invece riguarda l'ecografo aperto e la foto acustica stiamo sviluppando anche non solo giochiamo con le macchine ma l'idea è giocare con gli algoritmi cioè dopo aver diciamo giocato con la misura giocare con l'analisi della misura e per riuscire a che ne so trovare i contorni di una massa tumorale piuttosto che lo spessore di una parete di un vaso cardiaco piuttosto che l'ostruzione eccetera e anche qui quindi impieghiamo dei sistemi di sofisticati di analisi di immagine che invece sono fatte tutti col computer abbiamo anche un centro di calcolo dedicato nell'infrastruttura ecco in acquisizioni invece sempre in questa parte delle ICT abbiamo un microscopio dedicato rispetto al quale vorremmo far lavorare anche il robot per rendere ciò che oggi è fatto in termini di analisi patologica tutto manualmente per rendere automatizzato non soltanto l'acquisizione dell'immagine quindi per esempio di una di una prelievo per un esame istologico ma anche diciamo nel successivo referto cioè nell'analisi di quello che si vede vi ho detto della telemedicina sviluppiamo sensori sensori indossabili smart texture quindi per in questo campo e in ultima come vi dicevo ci sono i colleghi che si occupano di software biomedicale fino a un anno fa il software biomedicale andava in autocertificazione vi spiegherò dopo cosa vuol dire cioè vuol dire semplicemente che il fabbricante ridice un fascicolo tecnico e lo vende oggi invece in funzione dell'applicazione del software può diventare un oggetto con implicazioni di sicurezza e quindi è necessario un terzo che si chiama ente notificato in grado di dare il suo placet rispetto al processo di sviluppo di implementazione di un software ecco passando all'ultimo pillar che è quello del piccolo quindi quelli prima se volete potrebbero essere categorizzati in modo semplicemente dalla cellula in su e qui invece andiamo dalla cellula in giù abbiamo diverse facility anche qua e diverse attività qui c'è qualche indicazione sulle attività che riguardano la stampa 3D di scaffold di materiali diciamo biocompatibili atto per la crescita cellulare abbiamo addirittura stampa 3D cosiddetto cell printing cioè vorremmo stampare non solo gli scaffold che sono le case delle cellule ma metterci pure le cellule dentro abbiamo qualcosa abbiamo anche dei colleghi che hanno ottenuto un grosso finanziamento europeo su questa cosa vorremmo anche creare qualcosa stiamo già facendo i cosiddetti organon chip cioè l'idea è quella dell'ex vivo un paziente che ne so ha una patologia oncologica su un organo prelevare un parte di quell'organo farlo crescere in laboratorio e verificare solo su quell'organo micro-organo che abbiamo creato l'effettivo funzionamento ad esempio di un farmaco e quindi siamo in grado di creare anche come vi dicevo le case che si chiamano scaffold e quindi abbiamo stampanti 3D che a differenza delle stampanti 3D che abbiamo al Politecnico addirittura abbiamo un centro interdipartimentale anche quello finanziato dalla regione che si occupa di stampa 3D in senso lato queste sono più piccole semplicemente riusciamo ad avere diciamo dei particolari di dimensione molto più piccola e più precisa mentre di là facciamo delle cose diciamo in ambito maggiore abbiamo delle macchine in grado anche di caratterizzarli che quindi vanno ancora sotto quei nano indentometri che vi dicevo prima quindi micro bilance micro bilance al quarzo che servono proprio per verificare quando una cela abbia o una proteina si sia legata con una cellula eccetera molto precise abbiamo un reometro che è una macchina anche lì utile per valutare dei gel e abbiamo dei dispositivi per verificare in modo attento e fare delle analisi superficiali sostanzialmente ecco poi due parole ancora su questa che direi che mi sentirei di dire salvo qualche collega che mi sventisce che ce l'abbiamo come università tecnica è vero che in Italia università tecniche non ce n'è tantissime ci sono i tre politecnici c'è l'UAV l'architettura a Venezia insomma non siamo tantissime però direi e all'estero qualche esempio c'è però direi che assolutamente una mosca bianca il fatto di avere in università tecnica un laboratorio di cultura cellulare noi per lavorare con le cellule dovevamo sempre rivolgersi all'esterno dai colleghi biologi e qui siamo in grado di fare le culture cellulare direttamente in casa abbiamo anche delle macchine atte ad analizzare le proteine e cose di questo tipo e sta funzionando talmente bene che nel prossimo futuro raddoppieremo questo laboratorio che lavora a tempo pieno siamo anche molto dotati ovviamente dal punto di vista microscopico oltre a quello là che vi dicevo prima che riguarda semplicemente l'analisi istologica che se volete è un microscopio così più lasciatemi dire banale perché banale perché l'analisi istologica normalmente viene fatta su dei provini piani e quindi il microscopio che ha problemi di profondità di campo lavora bene sul piano qui abbiamo dei microscopi con focali o spinning disk glim adesso non posso entrare che però sono in grado di vedere diciamo degli spessori di materiale più importanti di lavorare su uno pseudo 3D non è un vero 3D però abbiamo degli spessori importanti fondamentali per l'analisi di tessuti biologici cellule e cose di questo tipo quindi ne abbiamo di due tipi e quindi questo fondamentale anche per il campo anche in campo bionano abbiamo iniziato in luce dell'attività di certificazione come vi dicevo che addirittura dopo l'innovazione tecnologica e qui praticamente si cita la ISO 10993 che è quella della biocompatibilità sostanzialmente prove di biocompatibilità bene ecco detto questo in questo diciamo minuti che ci rimangono e cerco di collegare le due parti e ritorno sulla diapositiva con la quale ci eravamo fermati la prima ora nella prima ora ci siamo fermati con una domanda diciamo ma perché i prezzi sono alti e invece e la tecnologia non entra perché è così cioè spesso a differenza degli altri settori industriali dove la tecnologia entra a piene mani in questo campo la tecnologia entra con estrema difficoltà entra con estrema difficoltà perché il problema è che il mercato come avete capito per certi versi è chiuso per cui ogni cosa in più la concorrenza non è così spinta come abbiamo visto per cui ogni cosa in più che vogliamo far entrare vuol dire dare qualcosa in più all'azienda che ce la fa entrare per cui spesso paradossalmente paradossalmente la tecnologia entra con molta difficoltà vi faccio un esempio per tutti ma ne potrei fare 10.000 ne faccio uno in regione Piemonte noi qua siamo in regione Piemonte il nostro sistema sanitario della regione Piemonte prevede tre sistemi informativi degli ospirali differenti con dei consulenti che dell'unica cosa che si occupa di far parlare un sistema con l'altro sono indipendenti poi c'è che ne so Facebook che invece immediatamente ci sono problemi di privacy ho capito ma la cosa che più mi dispiace è quando vedo la tecnologia che c'è già ed è a basso costo e non entra manco quindi noi non avremo problemi a fare un sistema informativo solo non dobbiamo fare ricerca per fare questo basta volerlo ecco la domanda è perché non lo vogliamo fare altri casi sono più complicati se volessimo sviluppare una valvola percutanea mitrale al momento non siamo capaci cioè senza operare il paziente a cambiargli la valvola mitralica e lì dobbiamo investire quindi non voglio dire che non bisogna investire bisogna investire certo però esistono tecnologie che sono già a basso costo e non entrano ok e vogliamo capire perché vogliamo capire perché quindi e vogliamo legarla con quello che vi ho fatto vedere del poli cioè in sostanza il messaggio positivo che voglio dare è possiamo far qualcosa noi quali voi siete più giovani potete far qualcosa cosa dobbiamo fare abbiamo degli strumenti per non dico invertire ma per far derivare il sistema laddove ci permetta in primis direi di avere di più essere più efficienti e per carità se poi troveremo più risorse ancora va bene però fare di più con quello che abbiamo che già abbiamo perché vi ho dimostrato che ci sono molte risorse che sono sprecate allora cerchiamo di rispondere a questa domanda quindi riprendo questa diapositiva e collego le due parti allora uno potrebbe dire perché perché salva la vita abbiamo detto no l'altra cosa che potrebbe essere uno dice no vabbè però attenzione tu se devi fare una stilografica fai la stilografica e la vendi qua invece c'è un problema di regolamentazione qui c'è la certificazione è un costo molto importante cioè vi ho dimostrato prima che poi spesso purtroppo se il mercato è chiuso e non c'è la concorrenza in realtà poi i prezzi non discendono solo da questo vi ho dimostrato che esistono casi in cui un farmaco aumenta di più del 1000% con tutta la certificazione già fatta però è in dubbio noi lo stiamo affrontando che il tema della certificazione è un tema importante e in particolare e diventerà ancora più importante perché dal giugno dello scorso anno abbiamo ritardato di un anno per il covid è entrato in vigore il nuovo regolamento dispositivi medici per inciso vi dico che è una cosa importante tanto che al polio anche qui tre anni abbiamo fatto un corso proprio di certificazione di dispositivi medici rudimenti non vogliamo che voi ingegneri architetti usciate conoscendo tutte le norme però sapervi orientare sì dovete sapere che esistono saperla andare a cercare quindi tema è che fornivamo fino a qualche anno fa ingegneri bravi che però la certificazione non sapevano neanche che esistesse il nuovo regolamento dispositivi medici purtroppo è molto più restringente del primo per cui si prevedono degli aumenti molto importanti di costi voi mi potreste dire vabbè ho capito però è un tema importante sì è un tema importante e tra l'altro scusate inciso aumento di costi che dobbiamo sostenere anche per quel che vendiamo già cioè il predicato quello che vendiamo già è più facile da continuare a vendere tuttavia bisogna diciamo affrontare questi costi quindi ce ne stiamo occupando vogliamo dare servizio ecco però attenzione si possono ridurre perché adesso non è qui non ho tempo di trattare questa questione però vi dico solo il problema basilare il problema basilare è che probabilmente questo regolamento qui è stato scritto da gente che si occupa di farmaci ed è stato scritto lasciatemi l'esagerazione come se l'ingegneria non esistesse no cioè il tema è che è questo qualsiasi cosa che tu devi fare prima mi fai la sperimentazione clinica e dopo la metti sul mercato no che è tipico di quello che dobbiamo fare con un farmaco oggi un farmaco non possiamo calcolarlo se non facciamo una sperimentazione clinica magari in futuro riusciremo ma oggi non siamo in grado anche se abbiamo colleghi che si occupano di drug design eccetera però non siamo a quel livello siamo costretti a sperimentare ok siamo costretti a sperimentare però non tutto è così no quindi avete visto qualche figura prima per esempio che ne so c'erano delle placche che stiamo provando per la sintesi di fratture per trocanteriche insomma fratture del fremore sono dei pezzi in sostanza di metallo sostanzialmente di titanio eh allora volete dirmi che noi ingegneri non siamo in grado noto il materiale il suo limite di fatica eh il suo carico di rottura e eh diciamo i carichi che normalmente vengono applicati in quella zona a progettare quel dispositivo lì e invece siamo costretti come ci dice il regolamento di fare prove di fatica che durano uno due tre mesi capite cioè e questo è un po' che bisogna e sul quale noi diciamo enti accademici dobbiamo lavorare nel senso che tutte le volte che riusciremo un tema molto attuale a sostituire la parte sperimentale con una numerica lo dobbiamo fare perché risparmiamo un mucchio di risorse non per diciamo ottica di decrescita felice ma per semplicemente metterli da un'altra parte dove servono di più quindi vi faccio una un esempio così per capirci sarebbe come se noi per costruire una casa io sono meccanico quindi vorrei parlare di un'altra cosa tiro una casa noi ci fosse una roma attiva che ti dice guarda ne costruisci dieci le spacchi prima no? le tiri giù col terremoto simula il terremoto vedi quando si rompe mi dici quando si rompe poi quando mi hai detto hai calcolato tutto il terremoto eccetera poi fai quella vera no? capite che le case le progettiamo ma non è che le spacchiamo sappiamo già come costruire di più di più spesso la stessa normativa perde di vista l'utilizzo pratico perché spesso si concentra ad esempio sulle rotture cioè spesso tutti i dispositivi ortopedici come logico si occupano più della rottura cioè di una progettazione che fallisca dal punto di vista della cosa che si rompa peccato che noi meccanici sappiamo molto bene che quando una cosa funziona non è che solo non si deve rompere ma deve anche avere l'elasticità diciamo opportuna e poi ci deve essere la funzionalità ecco molto spesso questi poveri colleghi insomma queste sono spese importanti che devono magari fare un dispositivo medico nuovo oltre di questo tipo ortopedico oltre a provarlo in laboratorio cosa dicono? ma guarda io il carico bene non lo so però ti dico quell'altro mio collega lo vende questo qua si fa così si chiama analisi di predicato e questo qui e quindi non solo mi provo i miei provo anche di nuovo quelli dell'altro guarda questi qui si rompe a 10 il mio fa 12 quindi va meglio e l'ente notificato che è quello che deve diciamo verificarci dirci che va bene quello che abbiamo fatto ci dice ok mettilo in vendita anche sto ragionamento qua di per sé sbagliato sarebbe come se dire che uno torna all'esempio della casa uno deve costruire una casa invece di mettersi a calcolarlo vede la casa del vicino dice guarda quello lì ha fatto un pilastro così il mio è così e quindi sta sulla casa andando avanti così viene fuori che al posto della stanza viene un grosso pilastro la stanza non c'è più quindi in sostanza questo a dire che molto si può fare su questo tema per diciamo evitare di sperimentare tutto e soprattutto evitare diciamo la sperimentazione su paziente perché poi mica abbiamo finito cioè dopo che abbiamo provato il laboratorio bisognerebbe poi ancora fare la sperimentazione su paziente e lì si aprono un altro campo enorme di costi in termini di consensi informati privacy cioè si apre una serie di tematiche molto importanti che chiaramente sono da affrontare e addirittura così come la certificazione non ce la possiamo dare noi ma dobbiamo fare tutte le prove e poi andare da un tizio che si chiama ente notificato sui dispositivi diciamo che hanno implicazioni di sicurezza più importanti ad esempio questa semplice placca ha implicazioni di sicurezza importanti e che ci dice che va bene anche per fare le prove diciamo sperimentazioni cliniche non possiamo decidere noi come farle ma ci va un comitato etico che prima gli diciamo come vogliamo fare come trattiamo i dati quanto durano tutta la struttura e poi magari quindi capite che in effetti questi sono temi importanti che aumentano sicuramente i costi non c'è dubbio dei dispositivi medici ok dico una cosa sempre ancora quindi una battuta verrebbe fuori che le aziende tendenzialmente dovrebbero lottare no contro lasciatemi dire è sbagliato cioè cercando di guadagnare libertà ecco vi posso dire che con sorpresa ho scoperto che le grosse aziende non ci lottano contro anzi spesso fanno proposte di complicazione di attività e perché perché vedono e intravedono soprattutto la grossa azienda e arrivo a quel che possiamo poi fare noi no in questo tipo di 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 campo una tutela del loro mercato cioè sostanzialmente più la certificazione è complessa più la piccola e media impresa non può affrontarla e quindi è necessaria una grossa impresa con le strutture no quindi se volete un'altra forma di trasferimento del valore che dicevo prima però capite che bisogna avere in testa che questa cosa qua è l'ottica del paziente è sempre la sicurezza del paziente non la sicurezza dei bilanci sono cose diverse ecco o il mantenimento del mercato ecco è importante questo tema perché non va portato all'estremo perché se no effettivamente è un altro motivo per quale la tecnologia non può entrare vi faccio un esempio oggi nessuno si metterebbe in testa in Europa perché quello che vi ho fatto vedere il regolamento europeo poi ce n'è uno molto importante che forse era più restrittivo di tutto che si chiama FDA che è quello americano però oggi l'FDA mi sembra più largo di questo nessuno si metterebbe a stappare una protesi in camera operatoria se non sulla responsabilità del medico perché come non è certificata ovviamente quella protesi stampata sul paziente non ci sono spazi leggendo questo regolamento che ci incitano comunque a proseguire voi leggete l'FDA sull'FDA c'è scritto esattamente questo attenzione questo 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 è importante ma non bisogna mai limitare l'ingresso di tecnologia quindi fare tutto il possibile per comunque permettere alle nuove tecnologie che non hanno storia non hanno predicato di entrare nel mercato ok quindi anche qui purtroppo la grossa impresa spesso diciamo vede questa cosa come una tutela del mercato invece che come un problema diventa un vantaggio ecco adesso vi presento così due numeri per quanto riguarda l'Italia e quindi vedete che il mercato ed è in continua ascesa dell'industria biomedicale in Italia è molto importante quindi non ci sono gli impiegati della sanità come dicevo prima ma ci sono solo i dispositivi farmaci eccetera vedete che abbiamo 4.500 imprese 112.000 impiegati abbiamo un fatturato di 16,2 miliardi che dei quali 10 vengono in Italia e 5 vanno all'estero ecco la cosa interessante è che praticamente di quello che va in Italia il 78% è pagato dalla sanità pubblica e quindi tornate torniamo al discorso di prima chi sceglie quindi chi sceglie scelgo io per te che usi ma paga un altro quindi il problema è questo è pagato dalla sanità pubblica ed è scelto dal medico questo è un problema rispetto al quale noi dico noi ingegneri architetti che si occupano di ricerca e stanno in università spesso veniamo tagliati fuori perché tradizionalmente dato che il sistema è questo il medico sceglie la sanità paga dove va l'industria per capire cosa bisogna fare va dal medico perché andando dal medico no ed è giusto che lo faccia andando dal medico il medico gli dice guarda serve questo 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 e qui niente di male il problema che noi spesso a quel tavolo non siamo seduti e invece dovremmo essere seduti anche noi lì a quel tavolo a spiegare al medico che magari quel dispositivo in fibra di carbonio che lui sta comprando che pensa che sia uguale all'allettone della Ferrari che corre in Formula 1 si va in ferramenta e lo si compra per 4 euro capite questo è importante quindi il mio non è un messaggio ovviamente di opposizione però è un messaggio che vuole essere invece propositivo cioè interdisciplinare cioè per risolvere il problema dobbiamo sederci tutti al tavolo ovviamente umilmente ci mancherebbe altro su questo tema vengono primi i medici degli ingegneri non ho dubbi ma dobbiamo esserci seduti anche noi per cui vi riporto un tweet di qualche giorno fa di Roberto Burioni che sapete tutti chi è che dice un mondo dopo gli ingegneri parlano di virus o dove i virologi progettano ponti in cemento armato non promette nulla di buono a me non sembra giusta sta frase qua nel senso che invece io penso che proprio è sull'interdisciplinarietà e vi potrei fare degli esempi pratici e penso che non gli si possa dare un grosso contributo noi politenico con le strutture che abbiamo messo su ma anche dal punto di vista proprio di scardinare alcuni meccanismi e in particolare in particolare direi che il compito che io vedo più importante è quello proprio di parlare con le imprese se la grossa impresa non vorrà parlare con noi ma devo dire che comincia a parlarsi pure lei perché non bisogna anche essere propositive sicuramente quel che dobbiamo fare è aiutare le piccole perché chi ha una start up una PMI non ha la forza in questo momento per entrare nel mercato vista le condizioni al contorno noi lo dobbiamo aiutare se vengono da noi dovremmo essere in grado di aiutarli non soltanto a portare il prodotto che loro magari hanno già brevettato a essere industrializzato ma dobbiamo aiutarli a fare tutte le prove le valutazioni di sicurezza in modo che sia certificato e in questo modo chiaramente tutto ciò aumenta la concorrenza e la come dire riduzione sicuramente dei costi ok quindi questo è direi in senso positivo quello che bisogna fare è unirsi alla fine e noi lo stiamo cercando di fare entrare in questo gioco e riuscire a dire la nostra ok e penso facendo una chiosa anche a quel che diceva il professor Pievani lui se volete ha diciamo come dire manifestato non dico il primato però l'importanza della ricerca di base no e se volete anche l'importanza della ricerca di base finanziata dal pubblico quindi una sorta di primato del pubblico e della ricerca di base io in questa cosa personalmente credo solo parzialmente nel senso che secondo me assolutamente sì ci deve essere il pubblico che controlla qualcosa che abbiamo visto che non sempre funziona ci deve essere la ricerca di base la serendipity vi ha spiegato che dalla ricerca di base possono venire fuori diciamo delle idee alle quali io non pensavo ecco attenzione io penso che sia importantissima anche la ricerca applicata parallela perché anche lì vengono fuori cose alle quali non pensavamo quindi sicuramente la serendipity c'è anche nella ricerca applicata per cui di più credo che il futuro per e la sfida del futuro sia proprio nel connubio tra pubblico e privato quindi scardinando il concetto che il privato interessa solo fare profitto e il pubblico invece diciamo si occupa delle cose che contano ma sedendoci allo stesso tavolo non soltanto gli ingegneri e i medici ma diciamo i grossi decisori pubblici con anche in senso positivo ovviamente non con i prezzi nascosti ma anche i grossi diciamo entità industriali in modo da insieme diciamo risolvere e progredire e affrontare la sfida che abbiamo davanti ecco dico questa cosa è molto importante perché finendo avviandosi verso la fine diciamo vi faccio un esempio qui che per capire cosa succede se non lo facciamo questo lavoro cosa succede se non lo facciamo allora qui vedete non c'è la ditta non c'è niente però vi presento questo oggetto questo oggetto qua è un pezzo di un esapode cos'è l'esapode vedete che l'esapode è una sorta di fissatore esterno che serve o per la sintesi di fratture difficili lì vedete una tibia no vedete che ci sono dei fili che attraversano l'osso e noi teniamo dall'esterno questi fili tramite due anelli e regoliamo la posizione di questi anelli con questi sei piedi regolabili tutti voi sapete che un corpo rigido ha sei gradi di libertà quindi intervenendo con sei piedi riusciamo chiaramente a variare tre posizioni e tre rotazioni ok ecco questo oggetto qui è un oggetto che per carità i primi fissatori esterni è abbastanza interessante questo furono inventati da un tale che si chiama Ilizarov che era un pecoraio della Siberia che venne posto all'indice da tutta la comunità scientifica medica perché era uso aveva sviluppato una tecnica che gli permetteva di sintetizzare di far guarire le pecore che si fratturavano gli arti utilizzando dei raggi della bicicletta appuntiti fu messo all'indice e oggi questo sistema perché chiaramente l'indice perché c'è qualche rischio di infezione che va ovviamente affrontato oggi questo sistema è diffuso è diffuso in tutto il mondo perché ha dei vantaggi enormi rispetto ai quali non entro adesso comparato al discorso magari di sintesi chirurgica interna piuttosto che Jesse eccetera ecco ma perché vi presento questa questa slide perché quell'oggetto che vedete lì che è semplicemente una cosa fatta più bellina però diciamo dal punto di vista meccanico sembra un oggetto che è quello che usiamo per tirare i fili da stendere cioè voglio dire è un filetto con una ghiera che permetta a quell'oggetto di allungarsi e accorciarsi più bellino per carità c'ha degli scattini delle cose dunque quell'oggetto lì costa 800 euro che vedete lì quindi montare questa cosa qui a un paziente costa 800 euro per piede 8x6 48 poi gli anelli costano 500 euro quindi siamo a 5800 euro solo il dispositivo qual è il risultato? e taccio del fatto che nelle indicazioni dell'azienda c'è anche scritto che è monouso perché dice che i filetti si consumano quindi non si dovrebbe riutilizzare quindi c'è tutto un mercato dei dispositivi disposable solo per produrne di più ma tralascio questo fatto qua qual è il significato di questa cosa? il significato è che cioè scusate la ricaduta è che il direttore sanitario dell'ospedale va dal chirurgo e gli dice guarda di questi qua io me ne posso permetterne totta l'anno dopodiché se proprio non è necessario mettiti una placa che è un pezzo di ferro che costa 1000 e non 5000 quindi capite il tema è che spesso si collega alla fine il costo con l'utilizzo e quindi chi è che ne ha un danno? il paziente perché questa cosa qui va benissimo e potrebbe costare molto di meno ho conosciuto un medico del quale non faccio il nome un chirurgo a Milano che è un russo che è proprio un allievo di Lizarov che lui ha un bidone di barre filettate da 10 di dadi è uno dei più bravi in Italia con questo sistema e usa le barre filettate e i dati e una chiave da 10 detto questo io termino la mia lezione con un ultimo messaggio io penso che proprio per i motivi che ho cercato di velocemente trasmettervi che sia un ambito bellissimo dove lavorare proprio perché c'è molto da fare c'è molto da fare e sono convinto che l'innovazione tecnologica a differentemente da quanto viene spesso trasmesso o comunque se non è trasmesso viene pensato dai direttori sanitari che devono spendere i soldi non sia parte del problema cioè non è la tecnologia il problema è parte della soluzione quindi parte della soluzione è proprio quella che noi riusciamo ad introdurre coi costi diciamo paragonabili a quello che succede negli altri settori questa tecnologia all'interno del sistema perché ci permetterà di non solo di rottare risorse da altre parti ma ovviamente di rispondere alla sfida più più importante che ovviamente quella della salute dei pazienti e di tutti noi quindi io con questo vi lascio con questo messaggio noi nel nostro piccolo al politeno come diciamo stiamo cercando di lavorare con le piccole medie imprese proprio per nel nostro piccolo lavorare in questo senso e niente spero che molti di voi si appassionino anche a queste tematiche per dare il vostro contributo in futuro grazie ancora e buon proseguimento a tutti